Francesco Caruso, responsabile tecnico dello sci-club Castellisango, Francesco appena risceso dalle piste, qual è la situazione a neve sugli impianti? In questa stagione come iniziamo? Allora, innanzitutto Michele, grazie alla tua redazione per l'apporto importante che ci rinnovi di anno in anno e dobbiamo innanzitutto poi ringraziare la società Impianti quest'anno che ha fatto veramente dei miracoli, grazie alle grandissime mezzi e macchine di cui dispongono e una mano anche della madre natura che ha permesso un abbassamento delle temperature e diciamo che c'è un buon manto di neve, sono delle piste nevate con 40 anche 50 cm di neve artificiale, abbiamo 15 impianti aperti in alto sangro, stiamo lavorando discretamente con quello che si ha abbastanza bene, riusciamo a fare allenamento con i tuoi ragazzi, i turisti sono sommariamente soddisfatti vista con quelle piste aperte con un buon manto di neve, ecco ci sono dei piccoli miglioramenti da fare ma in questa situazione noi non ci possiamo in alcun modo lamentare. La stagione sportiva è incominciata, come sta andando e come proseguirà? Allora, la stagione sportiva è iniziata da novembre con le prime trasferte sui comprensori alpini, abbiamo fatto già lì degli ottimi allenamenti per poi proseguirli ovviamente nel periodo natalizio sulle nostre montagne, allenamenti discreti, neve buona, sono riuscito anche a diversificare in varie ore i vari allenamenti nei pali e campo libero e in questo momento abbiamo anche partecipato alla prima competizione agonistica, proprio questo sabato appena trascorso, raccogliendo degli ottimi risultati, diciamo che già la partecipazione a questi eventi comunque di notevole importanza, competizioni di regionali parliamo, ci hanno già un buon indice di ottima preparazione tecnica che si è raggiunta durante gli allenamenti. Stai misando anche un passaggio sul nuovo direttivo che si è formato. Sì, allora innanzitutto ringrazio il nuovo direttivo per la nomina responsabile tecnico che di nuovo mi hanno, diciamo, incaricato di gestire e organizzare lo Ciclub Castel di Sangro, il nuovo direttivo appena composto, guidato dalla Presidente Esther Capiraso, ci ha dato una nuova spinta, non che prima mancasse, ma sicuramente una nuova spinta c'è stata e il nostro innanzitutto Ciclub conta un numero di tre diagonistici intorno ai 20 e di direttanti che approcciano a questo sci, allo sci alpino, intorno alle 30-35 ragazzi che poi mediamente percorrono un percorso dai 10 ai 20 giornate, se non proseguire anche oltre, poi in base alle disponibilità che ci vengono manifestate, comunque dare una buona continuità dura sulle nostre montagne fino a fine marzo. Questi risultati sicuramente poi sono stati coltivati dai nostri tecnici che seguono i ragazzini, ma soprattutto poi da loro che sono i protagonisti, ma mi preme fargli proprio un complimento e un in bocca al luogo per il proseguo della stagione ai nostri allenatori che collaborano con lo Ciclub Castel di Sangro, che veramente ci mettono tanto durante tutta la stagione invernale, che è veramente pesante per loro, ma loro svolgono il lavoro con estrema passione e cura nei confronti dei bambini, che poi sono i veri protagonisti e i veri realizzatori di tutto il nostro lavoro.